La Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzogna Rossa è particolarmente preoccupata per il livello di violenza che stiamo vedendo in Israele e nella striscia di Gaza. Ovviamente siamo rimasti tutti scioccati dalle immagini tremende che abbiamo visto sabato e siamo altrettanto scioccati nel vedere civili e anche i nostri team colpiti dalle violenze. Come in ogni situazione, la Federazione Internazionale di Croce Rossa lavora con le nostre società nazionali, quindi in Israele con il Maghen David Adom e in Palestina con la Mezzogna Rossa palestinese. La nostra richiesta a tutte le parti è di rispettare, proteggere i civili, le infrastrutture civili, le persone che lavorano in ambulanza, negli ospedali, i team umanitari. Drammaticamente abbiamo già perso un volontario mentre guidava un'ambulanza della Stella di Davide Rossa mentre portava dei pazienti verso l'ospedale. Abbiamo avuto altre ambulanze e altri team, questa volta a Gaza, colpiti dai bombardamenti e dai combattimenti. La richiesta a tutte le parti è di proteggere i civili e le persone che aiutano le comunità colpite da questo terribile conflitto.